La squadra di Simone Inzaghi arriva in forma spettacolare, cavalcando una striscia di cinque vittorie consecutive su tutti i fronti. Lo scorso weekend hanno battuto la Roma in una vittoria di carattere, un chiaro segnale delle loro ambizioni in Italia. E solo pochi giorni dopo hanno portato lo stesso fuoco in Champions League, superando con sicurezza lo Young Boys. Ora, con i nerazzurri che sembrano inarrestabili e con il vento in poppa, puntano dritti a mantenere la loro rincorsa verso la vetta della Serie A. Dall'altra parte la Juventus si trova su un filo sottile, cercando di riconquistare la propria supremazia dopo il primo vero scivolone della stagione, a un passo dalla vittoria contro il WFB Stoccarda in Europa. Sotto la guida sicura di Tiago Motta, i bianconeri hanno costruito una difesa quasi impenetrabile, avendo incassato solo un gol in Serie A finora. Eppure sebbene la retroguardia sia stata un vero baluardo restano dubbi sulla potenza offensiva della squadra. La capacità di trovare il gol è stata finora sfuggente e con la sfida di stasera ormai alle porte la determinazione e la resilienza della Juve saranno messe alla prova definitiva. A pulsating encounter between Inter Milan and Juventus ended in a hard forza, but it's draw, leaving both sides with mixed feelings. For Inter, the match was a missed opportunity to distance themselves from their fierce rivals and strengthen their position at the top of the Serie A standings. Despite dominating large spells of the game, they failed to capitalise on key chances, a reminder that even the best sides need clinical finishing to secure victories in such high-stakes matches. This result, while not disastrous, will feel like two points dropped, rather than one gained, especially at home. Juventus, on the other hand, will feel a sense of relief and pride, having escaped with a valuable point against a stronger Inter side. Their resilience and tactical discipline, hallmarks of Massimiliano Allegri's teams, were on full display, and while they didn't create many clear-cut chances, they managed to stifle Inter's attack at crucial moments. This draw gives Juventus hope that they can still compete at the highest level this season, despite their inconsistent form. It serves as a confidence booster in their quest to close the gap at the top of the table. The draw leaves the title race wide open, with both teams showing flashes of brilliance but also areas of concern. For Inter, the pressure will be on to convert draws into wins in the coming fixtures if they are to keep their title ambitions alive. Juventus, meanwhile, will view this result as a small step in the right direction, but it also highlights the need for more consistency if they are to challenge for the squadron.